sto smascellando sto smascellando sto smascellando sto smascellando c'ho un bordello di cose da dire quest'oggi caghiamo caghiamo sui sorteggi ma voi iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo tutte le squadre e le competizioni devastate di like ne esigo 1500 per questo video e guardate i video fatti che abbiamo parlato di fiorentina di milan e di lazio nelle puntate precedenti recuperate tutto quanto anche il commento alla partita di quest'oggi e poi alle 17 per abbonati base video analisi pronosti e assistenza fante calci mi raccomando che stiamo entrando nella fase calda nella zona calda del campionato quindi competenze andiamo alle competenze ma quest'oggi veramente devasto allora cominciamo facciamo tutta la trafila sorteggi preconizzazioni andiamo a preconizzare quella che sarà lo svolgimento delle competizioni europee poi parleremo di tudor lazio e fiorentina panchina fiorentina allora cominciamo dalla champions la prima cosa che mi viene da dire è che spreco inter che spreco inter ci sono tifosi dell'inter ci dicano la loro hashtag che spreco inter e poi vadano con il loro commento perché a vedere questa competizione qui con le squadre rimaste un po spoglia l'inter ci stava l'inter poteva giocarsi comunque le sue carte magari non vincerla ma di certo non uscire così presto no cioè io se fossi interista avrei ancora la bava alla bocca bava alla bocca e prezzemolo tra gli incisivi smascellando questo io proverei non so voi che idea avete detto questo detto questo detto questo in champions si tifa atletico madrid io tifo atletico madrid viva il ciolo a basso ancelotti viva il ciolo a basso ancelotti moto della champions viva il ciolo a basso ancelotti sulla luna non dovevano portare la bandiera americana dovevano portare un lenzuolo un drappo un arazzo con scritto viva il ciolo a basso ancelotti voglio il fotomontaggio con la casa quella sul carso avete presente quella di velta con scritto non tutti al piave con scritto viva il ciolo a basso ancelotti questo è il mio mood questo è il mio vivere champions league ok quest'anno viva il ciolo ma andiamo con l'analisi con l'analisi di quelli che sono i quarti e le semifinali vi dico proprio vi dico proprio il percorso nel percorso vi dico il percorso allora arsenal payan arsenal payan ser payan allora il buyer come squadra è temibile a livello di rosa qualcosina in più ma vedo come momento come gioco come effervescenza come gioventù superiore l'arsenal come effervescenza proprio secondo me passerà l'arsenal di arteta atletico madrid borussia dortmund sfida molto bella il dortmund non va sottovalutato perché è un po un underdog ma è una squadra con dei valori con della qualità con delle espressioni giovanili molto interessanti però penso che l'esperienza dell'atletico e di alcuni suoi protagonisti specialmente offensivi similmente a quanto visto con l'inter possa fare la differenza e poi ciolismo real city real city vi dico la verità è una sfida che mi aspettavo venisse fuori magari un po più tardi in semifinale così e qualora fosse uscita un po più tardi avrei favorito maggiormente il city ok che nel frattempo poteva andare di corpo mettere in moto la sua macchina in questo finale di stagione però detto questo vedo comunque avanti il city vedo passare il city non magari in carrozza come l'anno scorso o come avrebbe potuto passare se la sfida si fosse fatta un po più avanti però penso comunque passerà il city con un po più di fatica rispetto magari all'anno scorso paris san germain barcellona è forse il quarto più interessante più più anche difficile da andare a pronostare perché quest'anno sulla panchina del paris san germain siede luis enrique che è un profondo conoscitore del calcio spagnolo il paris san germain non è una cozzaglia di figurinismo fine a se stesso ma è una squadra con certa razionalità credo però che passerà il barcellona credo passerà il barcellona di xavi e lewandowski quindi praticamente avremo delle semifinali combinate in questa maniera atletico barcellona e arsenal manchester city arsenal manchester city non che poi è una sfida tra allievo e maestro non credo che l'allievo supererà il maestro credo che prevarà il city quindi city prima finalista atletico barcellona quindi due semifinali anche di derby no derby iberico derby inglese semifinale atletico barcellona passa l'atletico passa l'atletico di garra di grinta di concretezza di determinazione psicodramma tikitacca barcellona passa il ciolo finale city atletico l'alza il ciolo l'alza il ciolo come tuchel nella finale chelsea manchester city l'alza di ciolismo l'alza di tuchelismo l'alza con le barricate con la garra ok poi ci saranno tutti gli antigiochisti e noi con loro che esulteranno perché il ciolo avrà vinto l'alza il ciolo quest'anno l'alza il ciolo finale atletico city l'alza il ciolo l'alza assolutamente il ciolo voglio alzarla con il ciolo voglio sentire il ciolo e questo è la preconizzazione champions ebbene poi come il city sia così come l'anno scorso la favorita come forza come livello dei giocatori livello di roster ok bene andiamo con l'europa league signori europa league allora benfica marsiglia liverpool atalanta roma milan bayern leverkusen west hampe cosa dire bellissima sfida tra milan e roma vi dico cosa è giusto qui semplicemente vi dico come andrà in base a cosa è giusto vi dico come andrà in base a cosa è giusto secondo me è giusto che le italiane prendano cinque squadre in champions ok sebbene l'unico ranking che ci interessi è in che posizione sia carle nella classifica di presenze turistiche in italia ma è giusto che la serie a prenda cinque squadre in champions e che nel confronto milan roma la roma esca e si dedichi alla lotta in classifica per accedere alla champions league e il milan vada avanti avendo una classifica più tranquilla quindi un bel smoking bianco de rossiano con la roma che per una volta esce prima rispetto alle altre e si occupa lei giustamente di godere di quello che è che anche lei ha contribuito in questi anni a far aumentare e andare in champions league e il milan che va avanti e il milan che va avanti atalanta liverpool gasperini becca il celtrone gasperini becca il celtrone non solo becca lo manda a casa e vi spiego anche come algevis uno uno zero a due uno zero a due del liverpool poi ritorno ok in casa degli inglesi o meglio scamacca vedo scamacca così davanti alla copp ok così lanci di oggetti in campo devasto sospensioni zero a due in casa perde all'atalanta 3 a 1 ad anfield road per l'atalanta si va ai supplementari si va ai rigori e l'atalanta passa ai rigori l'atalanta elimina il liverpool ai rigori e poi uscirà in semifinale perché è giusto così esce contro quella che poi beccherà in semifinale tra benfica e marsiglia esce elimina il liverpool ma esce in semifinale purtroppo va così quindi avete capito in europa lì come funziona funziona è giusto che avanzi il milan perché può dedicarsi all'europa league la roma si dedica il campionato sfruttando il quinto posto champions e l'atalanta elimina il liverpool veniamo alla fiorentina la conference league veniamo alla conference league la fiorentina ha avuto il miglior sorteggio possibile continua la tradizione ecologena oserei dire della fiorentina ai sorteggi in questa conference becchiamo il victoria pilsen che è la squadra più abbordabile di quelle rimaste ma non solo fortunati anche nel pescare la possibile semifinale perché becchiamo non quell'otto con lì l'aston villa ma becchiamo una tra club bruge pauk se passiamo questo per dire cose che il sorteggio è andato molto bene certo è che se la fiorentina è quella vista ieri o vista in tante uscite dell'ultimo periodo ve lo dico c'è da avere paura anche anche del victoria pilsen è sia chiaro detto questo avresti una bella strada verso la finale avresti una bella strada verso la finale e quindi sarebbe un peccato non sfruttarla magari sperando in qualche sorpresa legasi eliminazione dell'aston villa nella nel tabellone opposito nel tabellone opposito quindi questa la mia situazione coppa europea ditemi anche la vostra fatemi i vostri pronosti ditemi cosa ne pensate la vostra situazione e io mi dedico a due cose extra pronosti mi dedico in primis a tudor alla lazio igor sudor igor sudor perché ci sarà da sudare per i giocatori ma cosa posso dirvi posso dirvi che abbiamo preconizzato allenatore lazio abbiamo fatto allenatore lazio fin dal post bayern monaco lazio con l'indicazione su un allenatore che battesse 3421 ne abbiamo parlato anche nell'importante video dell'altro giorno e vi dico di più ragazzi tudor alla lazio ci sta molto bene e può fare bene perché può essere l'allenatore perfetto in questo momento per gestire al meglio quello che hai e le caratteristiche della squadra che hai ora è vero che con sarri potevi e per certi versi dovevi fare un salto di qualità estivo importante che non ti portasse a lottare ancora per un mero piazzamento in europa league per vedere quel che succedeva in coppa italia no con sarri se facevi le cose in un certo criterio potevi veramente giocartene anche per il secondo terzo posto se impostavi la squadra nella stagione in una certa maniera così non è andata questo salto di qualità non l'hai fatto ma io comunque a lottito voglio bene vi dico la verità sono qui personaggi come de laurentes a cui io non riesco a volere male io a lottito voglio bene secondo me con sarri è stato anche un signore leggetevi anche le dichiarazioni in questi in questi giorni in queste ore al di là o delà del salto di qualità o delà dal punto di vista meramente tecnico e sportivo del salto di qualità che ci poteva essere che forse non ci poteva essere che comunque non è stato a livello umano io a lottito non ho niente da rimproverare in questa vicenda così come a tutti i componenti in parte sui giocatori non commento perché quelle sono questioni personali che i laziali sapranno meglio ma se guardo lato sarri lato lottito serviva fare un salto di qualità non c'è stato ma questa squadra qui con cui non hai fatto il salto di qualità d'estate però con i giocatori che hai per i giocatori che hai per la situazione in cui hai tutto può fare veramente bene perché un allenatore anche a livello caratteriale di presenza che alla lazio per me ci può mescolare con il 3421 le attitudini di una squadra da coibentare ma comunque con uno spirito propositivo che può continuare anzi rendersi ancora più effervescente è una squadra che col 3421 può rilanciarsi alla grande io mi immagino una difesa con ghila mi immagino una difesa con romagnoli con ghila con patric o casale se rientrerà nei giochi anche dei quinti con per esempio marusic che è un po più coperto e lazzeri che così può sganciarsi maggiormente in fase offensiva un zaccagni camada nella linea tre quarti o falsi esterni con davanti uno tra castellano semovio per me il 3421 e ve l'ho detto ve l'ho detto da tempo è il modulo col quale vorrei vedere questa squadra qua e vi dico la verità stante la situazione stanti le inerzie tudor è per me ci sta benissimo in questa squadra qui anzi mi viene da dire forse era una cosa che si poteva fare anche prima tornando alle dimissioni anche se poi va detto che hai fatto una buonissima champions fronte lazio che magari chiamando tudor che poteva avere meno esperienza non si sa se era replicabile quel girone però ho preso atto d'estate che il mercato non era stato funzionale o qualitativamente sobbalzante potevi magari farlo anche prima a questo salto di qualità comunque tudor per me è la scelta è la scelta è la scelta perché adesso avrà anche la settimana le due settimane di sosta per lavorare mi auguro che faccia questo questo cambio schema perché il suo arrivo deve avere senso in tal modo cioè sparigliando un po le carte lavorando su quello che c'è e per me tudor è uno che può lavorare bene su quello che c'è stanti le caratteristiche le sue caratteristiche quella della squadra quello che può fare con un 3 4 2 1 col modo di giocare che abbiamo visto avere al verona con tudor e quindi secondo me può fare veramente bene e ci può essere spazio per fare un buon finale di stagione che può dare carburante anche poi per andare a strutturare quella che sarà l'estate è un allenatore che può fare bene con quel che gli viene dato in base alle caratteristiche che lui ha sia personali sia tecnico tattiche bene chiudo con la questione italiano ieri ne abbiamo parlato anche nel video commento a a fiorentina maccabi che vi invito a vedere a rivedere o a vedere se non l'avete già visto io parto da un dato io comunque spero che italiano resti alla fiorentina e dico la verità e la madre di tutte le domande che avrei avuto piacere gli fosse rivolta era quella non di dire meramente se ora italiano cosa farà a fine stagione se l'italiano resti io gliel'avrei posta in un modo più rintuzzato al positivo più volta all'attaccare gli avrei detto così da mettere anche del pepe una smucinata di pepino è io avrei detto se ora italiano ma nel caso di europa league lei rimarrebbe questa era la madre questa era la madre di questa era questa era lo spacca inerzie questo andava in questo glielo colpì lui se gliela che così faceva gliela chiedevi e la sua reazione era perché era talmente era una domanda talmente così che gli sparavi così faceva capito quindi era questo che bisognava chiedere se ora italiano lei in caso di europa league rimarrebbe perché questa è la madre di tutte le domande ed è ed è su questo che bisogna innestare il finale di stagione della fiorentina perché siamo d'accordo che la fiorentina non ha una rosa d'europa league non sulla carta non ce in campionato e non ce l'hai nelle coppe perché già in semifinale di coppa italia affronterai una squadra come l'atalanta che ha qualcosa in più di te in conference o delà del sorteggio che ti ha aiutato ma ti fossi trovato dinanzi un betis un aston villa che è ancora in gioco squadre così non puoi chiedere alla fiorentina di vincere la coppa sulla carta sulla carta ok poi bisognerà vedere quel che sarà il percorso però o delà di questo quello che bisognava chiedere in caso di europa league lei rimarrebbe perché è questo un po il senso da dare a questi mesi qua cioè non abbandoniamoci all'idea un po pigra di dire va via italiano meglio va via italiano bene non è così scontato non è così scontato io spero spero sempre nel rilancio di questo progetto io sarei curioso di vedere un italiano che avendo a disposizione lui e la società l'europa league abbia un beneficio dal calcio mercato anche lui per un salto di qualità da farsi se vai in europa league perché avrai altre risorse avrai altri impegni altri obblighi altri palcoscenici piuttosto che cambiare tutto magari a ribasso se non se non dovesse andare in europa league e così capito poi faccio notare anche una cosa io amo maurizio sarri vi dico la verità lo amo più come personaggio che non meramente come allenatore ma quelli che oggi sono esaltati ed entusiasti per un possibile arrivo di sarri e magari sono gli stessi che accusano italiano di essere un integralista uno che ha le sue fisse che che fa giocare i suoi giocatori prediletti così vi faccio notare che se si parla di integralismo italiano confonuto di sarri e massimiliano allegri è vedendo specialmente l'italiano anzi si è pure adeguato troppo in certe in certe istanze in certe istituzioni italiano è se vogliamo proprio dirla quindi io onestamente se possibile se possibile se possibile preferirei andare avanti con italiano godendo magari di una squadra che in qualche modo possa andare in europa league più semplice tramite le coppe che affascinano anche di più così come affascina molto vi devo dire la verità la semifinale contro l'atalanta e preferirei questo preferirei è a questo secondo me che bisognerebbe puntare sarebbe anche un cuneo un cuneo retorico che aiuterebbe a dare delle forti motivazioni a questa stagione perché immagino anche all'ambiente se l'ambiente sa che italiano anche i giocatori stessi se se sanno che in caso di di ottenimento dell'europa league magari italiano resta molti di loro che hanno caratterizzato sto ciclo possono rimanere si fa un salto di qualità tutti assieme che magari può far comodo anche ad italiano per crescere anche lui fare una competizione che non ha mai fatto la società comunque viene messa dinanzi al fare una squadra andando in europa league non in conference allora puoi anche dire vabbè l'anno scorso non mi hai fatto il salto in qualità perché tutto sommato siamo ritornati in conference però sto anno non ci sono scuse perché siamo in europa league e sarà un'altra competizione e questo secondo me la strada migliore sarebbe quella se lui volesse mi farebbe veramente piacere di dire ragazzi se andiamo in europa league resto allora lì il finale di stagione ha tutta un'altra energia un altro sapore un'altra determinazione ditemi cosa ne pensate ciao